Nostro Signore viene duemila anni fa a spiegarci e a parlarci della giustizia e della verità in termini profetici e in termini di leggi perché Cristo viene per traghettare l'umanità nell'era cosmica, si chiama integrazione cosmica cioè l'umanità che avrebbe accettato e soprattutto praticato quelle regole, quelle leggi che sono leggi della creazione sarebbe finalmente uscita dall'isolamento cosmico nel quale noi siamo confinati perché noi siamo assassini noi uccidiamo, quinto comandamento non uccidere, noi uccidiamo è un fatto terribile noi ci uccidiamo in maniera industriale tutti i santi giorni, le guerre, la fame, l'inquinamento, la malassanità, gli inganni, le persecuzioni ce ne siamo inventati di tutte per ucciderci quindi una società che uccide viene isolata cosmicamente dal consesso delle società civili dell'universo e viene posta sotto osservazione quindi Cristo viene per realizzare un processo di integrazione cosmica far uscire la terra da questa situazione, chiamiamola di embargo cosmico per uscire da questa situazione bisogna imparare la legge e praticarla se no non ci si va quindi c'è un giudizio universale che è fatto questa separazione, questo giudizio tra chi pratica la legge e chi non la pratica e Cristo ci spiega quindi andiamo ad alcuni passi del Vangelo che una delle leggi fondamentali per la vita dell'essere umano è la legge di causa ed effetto quindi se Cristo parla di leggi Cristo è non nella veste del religioso è nella veste dello scienziato che spiega delle forze che ci sovrastano e che il nostro malgrado veicolano la nostra vita in una determinata direzione a seconda delle nostre scelte legge di causa ed effetto azione e reazione nella fisica è conosciutissima ma questa legge vincola la nostra persona soprattutto in termini spirituali noi in quanto spiriti, intelligenze incarnati e disincarnati soggiacciamo alla legge di causa ed effetto gli orientali la chiamano karma la legge di causa ed effetto ha un valore scientifico molto importante nello spiegarci la natura dell'universo la legge di causa ed effetto ci spiega che l'universo è un ente interattivo che legge, misura il tenore etico delle nostre azioni e di riflesso fa accadere il nostro malgrado nella nostra vita eventi in relazione all'azione e al tenore etico dell'azione che noi abbiamo realizzato quindi per esempio se io rubo una mela perché sono goloso e Saro ruba una mela perché a casa c'ha le figlie affamate il mio rubare per golosità sarà giudicato dalla legge più grave del suo rubare per necessità e non lo fa per se stesso lo fa per le figlie quindi la legge, legge la legge misura il tenore etico delle nostre azioni e fa accadere nelle nostre vite fatti reali quindi ciò che ci accade nel futuro o nelle vite dipende da ciò che noi abbiamo fatto questo amici è una condizione molto importante perché rimette il timone della nostra vita nelle nostre mani ah, sono sfigato me ne capitano di tutti i colori se io sono vittima di fattori esterni di forze esterne forse non ne verrò mai fuori perché non le posso controllare ma se è scaturito da me siccome io mi posso controllare non devo far cambiare mia suocera mia moglie i miei amici il mio dettore di lavoro se le cose mi fanno male mi vanno male la legge di causa-effetto mi dice che io le posso cambiare quando voglio basta che conosco come funziona la legge quindi la legge di causa-effetto è la nostra libertà ci dice che noi non dipendiamo dai politici ci dice che noi non dipendiamo dagli altri ma siamo noi con le nostre azioni a determinare i fatti della nostra vita quindi siamo padroni assoluti della nostra vita lo siamo sempre stati non ce lo può togliere nessuno questa capacità tranne il padrone della legge che si chiama Dio Dio ha questo potere può dare la grazia o può toglierla perché è il padrone della legge quindi se noi conosciamo questa legge noi possiamo governare la nostra vita e finalmente determinare un processo consapevole di felicità di realizzazione di successo dobbiamo conoscere la legge e in noi non ci può essere tolta lo ribadisco quindi il potere per tenerci nella schiavitù demenziale nella quale ci hanno ficcato ci distrae ci distrae o con i passatempi quindi i vizi quando ci abbiamo i soldi o con le necessità facendoci mancare i soldi siamo in crisi giusto? l'Occidente è in crisi economica è in crisi? l'Occidente è in crisi non c'è denaro le banche non lo prestano gli imprenditori non riescono a pagare le tasse la gente non c'è i soldi non compra ma scusate non ci sono i soldi perché non ci sono i soldi? i soldi sono fatti di carta anzi oggi il 90% no il 99% della quantità di denaro che esiste nel mondo è virtuale il denaro fisico in carta esistente è solo l'1% del denaro che è stato creato nel mondo l'1% quindi se il denaro è al 99% solo cifre digitate su un terminale non costa nulla a parte l'energia elettrica ma la carta costa poco quindi la carta costa poco ce n'è ancora tantissima di tastiere per digitare numeri ce ne sono un'infinità dove sta la crisi? tutte le guerre moderne scaturiscono da una crisi economica non c'è denaro depressione del 29 porta alla seconda guerra mondiale domanda ma scusate non c'era una crisi perché dalla crisi si passa alla iperproduzione di armi e alla iperdistruzione di tutto e poi alla iperricostruzione non c'era la crisi? c'è qualcosa che non funziona quindi che significa che i padroni del denaro gestendo questo prodotto umano artificiale il denaro lo fa l'uomo non è un ente di natura determinano quello che accade nelle nostre vite allo stesso modo con cui hanno determinato l'ammazzamento di quasi mezzo milione di persone in Siria per un gasdotto noi non sappiamo come funziona il denaro sappiamo che serve ma come funzioni realmente la produzione e la gestione da parte di chi crea denaro non lo sappiamo è molto grave cioè noi pensiamo di sapere un sacco di cose ma sono tutte cose superflue di sostanziale delle cose che hanno peso e determinano la nostra vita sappiamo molto poco quasi nulla e quel poco che sappiamo molto vagamente quindi Cristo viene a insegnarci la legge la legge che governa la creazione è la legge di causa-effetto la enuncia il Signore nel momento in cui viene preso nell'orto del Gezzemani la enuncia intendo noi sappiamo cioè ci arriva da quel passo del Vangelo ma siccome Cristo ne ha dette tante lo dice anche l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo che non basterebbero tutti i libri del mondo per raccontare quello che il Signore ha fatto quando è venuto ma gli evangelisti ci riportano l'enunciazione della legge di causa-effetto in questo passo qui Matteo capitolo 26 versetti 51-54 l'arresto di Gesù lo leggo ed ecco uno di quelli che erano con Gesù messa a mano alla spada la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio chi fa questa azione è Pietro perché gli Apostoli giravano armati erano epoche un po' fosche la Palestina Gerusalemme erano sotto il gioco del tallone romano gioco militare e Gesù gli dice rimetti la spada nel fodero perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada causa ed effetto quindi il Signore per annullare il ritorno negativo dell'azione violenta di Pietro sangue e chiama sangue si dice cosa fa ammonisce Pietro smettila di usare lo spadino prende l'orecchio della guardia che si chiamava Malco la guardia del gran sacerdote glielo riattacca annulla così perché Cristo il Signore è il padrone della legge quindi la può manipolare infatti guariva risuscitava ne combinava di ogni cioè tutte cose contro natura perché lui è padrone della legge quindi gli riattacca all'orecchio da Malco e enuncia questa legge qui causa-effetto chi di spada ferisce e di spada perirà a dire che la nostra realtà è governata da questa legge causa-effetto quindi amici noi abbiamo potere assoluto nella nostra vita nel momento in cui stiamo decidendo le cause cioè l'azione nel momento in cui noi eseguiamo l'azione da noi scelta perdiamo il libero arbitrio siamo vincolati e soggetti all'effetto della causa generata ed è un effetto che a volte si ripercuote per tutta la vita non riusciamo mai a venirne fuori uno dei fatti più eclatanti soprattutto nell'attuale società è quando noi sbagliamo a sceglierci un compagno o una compagna fai quell'errore perché hai valutato male la scelta e sei fregato fai dei figli te la trascini decenni forse non ne vieni mai fuori anche perché purtroppo da giovani nessuno ci ha messo bene in testa che c'è l'invecchiamento l'invecchiamento cambia molte cose nel quotidiano di una persona ad esempio lo butta fuori o lo mette ai margini del mercato del sentimento farsi una famiglia a 20 anni non è lo stesso che cercare di farsela a 50 o 60 anni quindi quell'errore che tu hai fatto perché nessuno ti aveva spiegato come funzionava l'effetto dell'errore nella causa che tu hai generato te lo vai a vivere tutta la vita creando un casino posso dirlo che si ripercuote sul di te sulla compagno o compagno sui figli sull'intorno familiare sulle amicizie quindi l'errore di un'azione sbagliata che ripercuote un effetto drammatico nella nostra vita ci fa soffrire per molto tempo non lo controlliamo più noi controlliamo la causa ma non l'effetto l'effetto possiamo solo cercare di parare i danni e spesso non gliela facciamo perché gli effetti sono talmente drammatici da schiacciarci farci finire in depressione e purtroppo a volte anche col suicidio abbiamo generato un tale un tale caos nella nostra vita che non sappiamo più gestirlo errore nella gestione nell'uso della legge di causa ed effetto quindi Cristo ci ha spiegato una cosa importantissima l'unico apostolo che non parla di questa cosa molto importante è l'apostolo Giovanni ne ha parlato Saro l'aquila l'aquila è il simbolo dell'apostolo Giovanni perché l'apostolo Giovanni era l'iniziato l'apostolo più iniziato del gruppo dei dodici quindi all'atere l'aquila diventa simbolo della conoscenza e della sapienza spirituale perché la maggiore sapienza e conoscenza spirituale era in Giovanni l'evangelista quindi Giovanni scrive un vangelo iniziatico parlando soprattutto dell'aspetto mistico e spirituale delle leggi e non cita nel suo passo questo discorso qui ma lo metterà più esteso nel libro dell'Apocalisse nel libro dell'Apocalisse nel capitolo 13 versetti 9-10 e dice l'apostolo Giovanni chi ha orecchi ascolti colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia colui che deve essere ucciso di spada di spada si è ucciso in questo sta la costanza e la fede dei santi in questa accezione i santi sono gli iniziati coloro che conoscono la legge in realtà la parola santo viene da un termine sanscrito molto antico e significa varie cose quindi il Vangelo ci spiega che la legge che governa la creazione e la vita dell'uomo è la legge di causa ed effetto quindi la prossima volta che state decidendo qualcosa cercate di capire prima che cosa quella scelta vi porterà perché una volta che l'avete fatta non si torna più indietro quindi questo processo questo processo storico che ci sta portando allo scadere quest'anno dei cento anni di Fatima è gestito dalla legge di causa ed effetto e Cristo la spiega un sacco di volte un sacco di volte spiega questa legge il Signore in quel momento si presentarono a Gesù alcuni uomini per riferirgli il fatto di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro sacrifici cioè stavano svolgendo una funzione religiosa Gesù disse loro pensate voi che quei Galilei siano stati massacrati in questa maniera perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei e dice vi assicuro che non è vero anzi se non cambierete vita finirete tutti allo stesso modo e poi ne cita un altro fatto e quei 18 che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme vi assicuro che non è vero anzi se non cambierete vita finirete tutti allo stesso modo causa ed effetto quindi la fine anche drammatica della vita delle persone dipende dalla vita che conducono cioè determiniamo noi il modo in cui ci accadono le cose e sono frasi pesanti finirete ammazzati dice Cristo se non cambiate vita non è un caso che nelle apparizioni la Vergine dice ravvedetevi ravvedetevi ma che vuol dire ravvedetevi poi lo dice ai cattolici non è che la Vergine appare all'Islam o ai buddhisti appare a noi appare in ambiente cattolico in nazioni cattoliche ravvedetevi che vuol dire rivedere la nostra condotta di vita perché se noi non rivediamo cambiandola la nostra condotta di vita andremo incontro a delle disgrazie spaventose causa e effetto e che purtroppo poi succede magari solo una parentesi no che poi i preti che compensano con dozzinali si la misericordia no Maria il significato del ravvedimento è importantissimo esattamente quello che ha detto lui scusa parentesi chiusa il ravvedimento non è usa quello Saro che è meglio un altro passo sempre per rimanere in tema dove Gesù dice una cosa drammatica quindi sta figura anche che ci hanno costruito di Dio Cristo tutto misericordia è fasulla perché nella scrittura è scritto chiarissimo allora o la nostra religione nasce dalla venuta di Cristo cristianesimo oppure ci stiamo inventando e siamo nei tempi di quella profezia di Anne Caterina Emmerich di una chiesa fatta dagli uomini che non è la chiesa di Cristo ma la chiesa fatta dagli uomini è una chiesa ignorante è una chiesa che non ha la conoscenza delle leggi è una chiesa fatta di concetti umani svincolati dalle leggi ma l'uomo non può svincolarsi dalle leggi noi non possiamo scappare dalla legge se noi siamo creature fatte da Dio Dio quindi è l'espressione massima della legge noi siamo fatti della sostanza di Dio quindi se noi neghiamo la legge neghiamo noi stessi non possiamo non negare la legge giusto Marcello perché stiamo negando l'essenza più nobile e preziosa del nostro essere che è eterna e divina quindi non possiamo negare la legge è un errore grave quindi una chiesa umana questa chiesa politica è una chiesa ormai di principi della chiesa che hanno perso l'origine del loro insegnamento e si sono inventati una costruzione fantasiosa fatta da menti umane ma la legge se ne frega la legge è operante io posso pensare che il bicchiere non ci creda alla legge di gravità ma se lo lascio andare casca per terra la legge di gravità se ne infischia se il bicchiere ci crede o meno cade quindi che noi ci crediamo o non ci crediamo e lo ribadisco la legge agisce su di noi